È la storia di una famiglia e dell'inevitabilità di un grande amore, il quale grande amore riesce a superare tutti gli ostacoli, specialmente quello del senso di colpa. Dove è ambientata questa serie? È la terra, nel Trentino con le sue montagne, le sue valli meravigliose e il vino e quelle terre fanno parte della famiglia. Sono due attori protagonisti. Dieci anni fa Andrea è partito e adesso è tornato a casa per cercare di dare un senso alla sua vita, perché non riesce a dimenticare il passato. Che cosa ci fai qui? Ci incontravamo qui quando eravamo piccoli. Io, tu e Riccardo. Silvia nasconde un segreto. Quando riuscirà a trovare la forza di rivelarlo a tutti, si sentirà finalmente libera. Andrea e Silvia, dopo tante peripezie, forse ci riusciranno. Quella invece di Emma Sant'Angelo e Michele Masci, suo marito, è una famiglia molto simile a quella delle nostre famiglie, di tutti noi. Io voglio capire come siamo arrivati fino qui. E che cosa che conta? E che hai rivisto Andrea. Che cosa vuol dire questa nostra storia? Vuol dire che dai momenti terribili ci si può tirar fuori e che qualche volta i sogni si avverano. Io intervengo ogni tanto per laccare un po' l'ire di mia moglie e cercare di oliare un po' i rapporti tra lei e i figli. Partito. Azione. Azione.